può veramente un libro aiutarci a far crescere il nostro business fotografico ciao a tutti i ragazzi benvenuti in questo video io sono stefano e oggi cerchiamo di capire insieme se può veramente la scrittura la pubblicazione di un libro se questo può veramente aiutarci a far crescere il nostro business come fotografi ok allora innanzitutto io ho scritto un libro e non ve lo dico per farmi pubblicità assolutamente anche perché non vi interessa però ve lo dico per farvi capire che comunque vado a parlarvi ora di un argomento che conosco molto bene ok quindi non ve ne parla uno che nemmeno sa cosa vuol dire scrivere un libro ma ve ne parla una persona che comunque a me piace sempre in generale parlare di argomenti che conosco bene quindi portarvi argomenti che ho vissuto dapprima sulla mia pelle nel mio business come fotografo e quindi questo per dimostrarvi che questo è un libro che ho scritto io essendo un fotografo che si concentra molto sui matrimoni io ho scritto questo libro che si intitola sposarsi è bello se sai come fare che ragazzi è il primo il primo libro scusate in italia pubblicato da un fotografo il primo libro che riguarda consigli sul matrimonio pubblicato da un fotografo e distribuito gratuitamente ok quindi insomma questo per darvi un po un anticipo del fatto che andiamo a parlare di un argomento che conosco piuttosto bene ve ne voglio parlare perché ultimamente negli ultimi mesi in generale ci sono tanti formatori che vi condizionano e vi spingono a pensare che scrivere un libro può essere la soluzione per diventare famosi per diventare riconosciuti per far crescere il proprio brand eccetera eccetera anche noi fotografi siamo condizionati da questa cosa pensiamo che un libro possa risolvere tutti i nostri problemi e finalmente dare la svolta al nostro business in realtà con questo video voglio spiegarvi che non è proprio così ok e infatti ho notato che diversi fotografi si sono messi a scrivere un libro e sono sicuro che appunto non tutti però hanno ottenuto i risultati che tanto speravano quindi andiamo a vedere i pro e i contro della scrittura di un libro per noi fotografi vi ripeto io ho scritto un libro che riguarda il matrimonio perché perché il mio target di clienti sono le coppie di futuri sposi quindi ognuno naturalmente può andare a scrivere un po il libro che vuole rivolto a chi vuole non andiamo a parlare di questo andiamo a parlare proprio della scrittura di un libro per il nostro business quindi a livello di marketing quindi partiamo con i pro allora quali sono i pro di scrivere un libro allora i pro di scrivere un libro sono senz'altro innanzitutto una questione di percezione e di autorevolezza significa che naturalmente il nostro cliente che vede che abbiamo scritto un libro ci andrà a percepire come delle persone autorevoli perché generalmente proprio psicologicamente il fatto di vedere una persona che ha scritto un libro pone questa persona a un livello diciamo così di importanza tale per cui viene appunto percepito come persona autorevole quindi senz'altro aiuta da questo punto di vista da una questione di autorevolezza di essere percepiti come maggiormente autorevoli in secondo luogo naturalmente questa cosa ne va a conseguire un sacco di vantaggi è naturalmente il fatto dell'autorevolezza in secondo luogo come stavo dicendo appunto il libro è anche utile come lead magnet ok come cosa da offrire in cambio ai nostri potenziali clienti in cambio appunto del loro contatto quando andiamo a fare appunto una campagna pubblicitaria di acquisizione contatti infatti io ho utilizzato questa strategia io il mio libro l'ho scritto sia in forma cartacea autopubblicato quindi non è un libro che si trova in libreria vi ripeto è un libro che distribuisco gratuitamente proprio perché lo vado a utilizzare come lead magnet ok quindi lo do in cambio dei dati del cliente lo posso dare o sotto forma digitale quindi sotto forma e book oppure sotto forma cartacea ok naturalmente qui dipende un po come volete fare voi naturalmente consiglio di partire scrivendolo se lo volete fare sotto forma di book perché almeno non avete costi di stampa costi di spedizione invece se come me applicate delle strategie di marketing un pochino più avanzate il fatto di spedirlo naturalmente è tutta un'altra cosa quindi anche qui è una questione proprio se andiamo utilizzarlo come lead magnet anche il fatto di spedirlo è una cosa che va a giovare molto ok perché è molto bello per una coppia di sposi magari vedere che arriva a casa loro il mio libro con tutti i consigli per il loro matrimonio quindi ci sono questi vantaggi ok quindi una questione di autorevolezza di percezione di poterlo sfruttare come lead magnet e quindi anche di andare a sorprendere un po il nostro potenziale cliente queste cose possono effettivamente portarci dei vantaggi senza contare anche il fatto che il mio libro lo vado a regalare senza impegno cioè proprio in maniera del tutto gratuita alle coppie di sposi con le quali vado in appuntamento e poi non mi interessa cioè mi interessa relativamente se poi mi prenotano oppure no ma il fatto di dare loro il mio libro gratis va ad aumentare la possibilità di chiudere la vendita in quell'appuntamento perché io vado a regalare una cosa al mio potenziale cliente che si sentirà psicologicamente in debito di ricambiarmi acquistando il mio servizio ok entrano in gioco un po di cose più psicologiche ok più che altro e quindi ci sono tutta questa serie di giovamenti altra cosa di poter distribuire una versione cartacea come me è il fatto che io la do e poi potrebbe finire questo libro tra le mani di un'altra coppia che si sta per sposare e quindi il libro diventa un mezzo per farmi pubblicità in diretta perché il libro magari lo consegna una coppia di sposi dopodiché magari la coppia di sposi si sposa e dopo ha l'amico il parente il cugino che si sposa e dice guarda ho questo libro carino che ti spiega come organizzare il matrimonio e glielo dà e da lì scoprono stefano martelli fotografo quindi insomma ci sono tutte queste tutti questi giochini ma ne vale veramente la pena la domanda che sicuramente vi ponete ne vale la pena quindi magari qualcuno di voi già l'ha scritto e si è reso conto che magari non ha ottenuto come dicevo prima i risultati sperati altri invece dicono ma ne vale veramente la pena andiamo a scoprire infatti mi sono segnato qua anche dei contro allora innanzitutto il libro scrivere un libro a livello di business e di marketing questo significa che noi non andiamo a guadagnare dalla vendita di un libro quindi se siamo fotografi non siamo scrittori ok quindi il libro nel nostro business non deve servire per guadagnare dal libro perché per guadagnare veramente da un libro bisogna vendere veramente tanti ok quindi non è questo su cui dobbiamo focalizzarci io purtroppo vedo fotografi che addirittura vanno a vendere sicuramente hanno un po' ho copiato la mia idea ho visto e comunque sono stati condizionati dal fatto che tanti formatori come dicevo a inizio video spingono a dire guarda scrivi un libro perché ti farà fare la svolta poi in realtà adesso vediamo che non è vero alcuni appunto fotografi hanno scritto dei libri e cercano di venderli ma è sbagliato perché cercare di vendere dei libri come può essere il mio libro a una copia di sposi la copia di sposi difficilmente me lo acquista a meno che non sia un libro che proprio si trova in libreria che proprio non pubblicizzo tanto ma vuoi pubblicizzare il tuo libro o vuoi pubblicizzare il tuo brand ok bisogna stare molto attenti quindi va bene utilizzarlo come lead magnet ma non va bene focalizzarsi sulla vendita del libro ok perché li entriamo nell'ambito di un altro lavoro di un altro business che quello dello scrittore dell'editore infatti secondo me tanti non lo sanno ma se siamo fotografi e vogliamo scrivere e vendere un libro io non lo vendo il mio libro lo regalo se vogliamo venderlo dobbiamo diventare editori quindi entra in gioco anche tutta una questione di partita iva eccetera eccetera quindi fate attenzione sentite sempre un commercialista se prima cioè prima di pensare di vendere un libro perché potrebbe essere molto più complicato di quello che pensate poi serve davvero per farsi pubblicità il libro mi nel senso che torno a ripetervi va bene come lead magnet cioè se voi volete sfruttare il libro per una campagna pubblicitaria di acquisizione contatti va bene fare come faccio io cioè sfruttarlo sotto forma digitale o sotto forma proprio cartacea quindi spedirlo utilizzarlo per acquisire dei contatti per darlo in cambio del contatto della nel mio caso futura copia di sposi ma prendetelo come esempio adattatelo a voi perché non tutti i fotografi naturalmente sono matrimonialisti quindi adattate la cosa a voi però va bene utilizzarlo come lead magnet ma di per sé non va bene per farci pubblicità perché poi il libro deve essere scritto per fare in modo che il cliente ci conosca e quindi andiamo a rafforzare il nostro brand durante la scrittura del libro ma non è di per sé il libro farci pubblicità e far vedere che abbiamo scritto il libro che fa esplodere il nostro business quindi attenzione capite bene quello che sto cercando di dirvi quindi non va bene per pubblicizzare noi come fotografi poi altra cosa non ti fa diventare famoso il libro anche io sono sincero pensavo che soltanto dicendo a qualche persona del fatto che avevo scritto questo libro potessi diventare famoso tra virgolette no in realtà ti rendi conto che se non ti fai veramente tanta 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 pubblicità e se il libro non diventa un best seller in realtà non diventi famoso per niente poi altra cosa come già abbiamo detto non ti fa guadagnare non ti fa diventare ricco il libro quindi anche se ti metti a venderlo è molto difficile che riesci a fare dei soldi grazie al tuo libro e poi in realtà non ti distingue nel senso se il tuo potenziale cliente vede che è sito il libro non ti aiuta questo a distinguerti in realtà come fotografo ti aiuta probabilmente a potenziare la tua autorevolezza come abbiamo detto all'inizio ma agli occhi di un cliente che già sta entrando in contatto con te attenzione a questa cosa e quindi in realtà non è che di per sé il libro ti distingue ma sono altre poi lo vedremo nei prossimi video le cose che vanno a distinguerti veramente come fotografo quindi io spero con questo video di aver toccato dei punti interessanti per quanto riguarda la scrittura del libro e il fatto di sfruttarlo per il nostro business quindi alla fine per concludere ne vale la pena se tornassi indietro lo riscriverei questo è un libro costituito già da diversi mesi si lo riscriverei senz'altro però ecco l'ho sopravvalutata questa questione l'ho sopravvalutata quindi attenzione concentratevi su altre cose poi il libro può può essere una cosa aggiuntiva ok potete sfruttarlo per il vostro marketing da quel punto di vista per una questione di lead magnet se ben impostata la campagna pubblicitaria può veramente portare risultati soddisfacenti come è successo a me però attenzione ecco non crediate che la scrittura di un libro possa risolvere tutti i vostri problemi o distinguervi chissà quanto farvi diventare famosi o nel caso di venderlo di farvi guadagnare veramente qualcosa quindi per oggi per questo video è tutto da stefano è tutto iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto attiva la campanella lasciami un bel like e un commento se ti va e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti